di capire che il concetto di sostenibilità si collega non tanto alle dimensioni ma all'eccellenza. Bisogna fare qualcosa di eccellente e la sfida è quella di avere l'idea e poi trasformarla con grande competenza. Il secondo aspetto però, secondo me, è legato a esprimere le potenzialità. Cioè io devo capire su un territorio quali sono i bisogni, ma devo far esprimere le potenzialità in quel territorio che magari sono nascoste e che non riesco a esprimere. Allora, quando, faccio un esempio, quando voi parlate di Sant'Orso, vi sbagliate. Qui non si parla di Sant'Orso, si parla di un territorio. Quando, non so, dieci giorni fa c'è stato l'avvio del corso universitario di fisioterapia, che qui abbiamo un corso, e questi qua dicono ma noi siamo venuti a Sant'Orso. No, dicevo, guardate, voi siete venuti in un territorio, in un territorio in cui, se parliamo di Alto Vicentino, parliamo di 240.000 abitanti, che va da Tiene a Valdagno. 240.000 abitanti. Se invece parliamo del, come dire, dello Scledenze, definiamolo così, parliamo di 60.000 e 70.000 abitanti. E perché dico questo? Perché noi, io il lunedì faccio due giunte, una dalle tre alle cinque in cui c'è Giorgio Cale, in sei comuni, sempre e costantemente tutti i lunedì. Sei comuni si ritrovano per organizzare, come dire, l'attività normale e anche per progettare il futuro. E poi faccio la giunta del comune di Sant'Orso alle sei e mezza. Questo sistema di rete che c'è con l'impresa, perché oggi qua, in 3-4, veniamo dall'IPA, abbiamo fatto l'Unione dell'IPA tra imprenditori e comuni, questo è una potenzialità eccezionale, ad esempio, del nostro territorio. Per cui parlare di Villa Rossi non è parlare di Sant'Orso e Schio, perché sono improprietari, ma è parlare di una possibilità territoriale, ed è questa la nostra grande fortuna. Aggiungo un'altra, parlando di essere eccellenti, lo dico a noi le notte, noi abbiamo il museo che anche in questo caso è il museo archeologico dell'Alto Vicentino. Proprio perché lì c'è un'archeologa bravissima, hanno organizzato sabato scorso l'avvio dell'archeologia legata alla tessitura, e spendendo niente, ma noi non ci aspettavamo, c'erano 150 persone. L'importante è scoprire che hai un archeologa che abita qui, che è entusiasta del suo mestiere, e che questa archeologa, in questo piccolo museo, faccia qualcosa di eccellente. Quella, secondo me, è un meccanismo che ci fa sperare in una sostenibilità. Grazie.